Si è scaldato, stasera farà 20 km a Villa Manfile, amica la tua giornata non finisce qua, sono sicuro. E no, adesso Giorgia è qui per premiare gli atleti degli Special Olympics, che sono venuti rappresentati da tre società qui alla nostra gara, quindi li vorrei chiamare per la nuova era latina, David Starpino, Davide Castellani e Maurizio Popolenta. Per la nuova polisportiva De Rossi di Roma, Giovanni Angeloni, Krasnik Ivan, Krasnik Mischa, Marco Druella e Daniele Sapatini. E per la Noi con voi di Rio di Moreno Rinaldi, li premia il nove volte campione della 100 km del passatore, nonché tre volte campione mondiale della 100 km, Giorgio Calcaterra. Bravi ragazzi, bravi, 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 girati, 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 un po' davanti. Ecco, magari Giorgio si fai la, ecco, se Giorgio si mette con i ragazzi, aspettate un attimo che anche Giorgio mette la maglienza per farla un po' di ragazzi. Un attimo, vai Giorgio! Grande! Ragazzi, tutti intorno a Giorgio. Qualcuno da questa, Giorgio mentiti in mezzo magari. vai grande bravissimi bravi 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 Dio vi benedica sempre e ti chiamo io quando fate